Gli agricoltori oggi, forse come non mai, hanno un ruolo fondamentale nella difesa dell'ambiente. Se ne è parlato in occasione della quindicesima giornata nazionale per la custodia del creato, sabato e domenica 5-6 settembre 2020, quando nel Ferrarese si sono tenuti due eventi di e livello nazionale, in particolare il sabato nell'azienda agricola Bonifiche Ferrarese a Iolanda di Savoia si è tenuto un importante convegno organizzato dalla CEI, da Bonifiche Ferrarese e da Coldiretti. Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà per nuovi stili di vita è il titolo dell'incontro nel corso del quale si sono approfonditi diversi temi. Questa è la grande riflessione come stiamo celebrando la quindicesima giornata, quindi il quindicesimo anno. Quindi la CEI già ha ben 15 anni e in realtà si sta prendendo cura di queste tematiche che sono estremamente attuali, estremamente moderne. La Commissione Europea ha appena varato la strategia del Green Deal, quindi questo progetto che deve vedere tutte le attività produttive, quindi non solo agricoltura ma anche industria, commercio, la parte civile, l'utilizzo delle energie, entro il 2050 ha sostenibilità totale. Tutto questo si ripercuote nel mondo agricolo con quello che è stato battezzato il Farm to Fork, quindi una strategia di produzione di cibo ecosostenibile ed ecocompatibile. Papa Francesco ha incoraggiato tutti gli uomini e le donne di buona volontà a tener conto che dobbiamo custodire amando la vita. Per la prima volta questa giornata viene celebrata proprio in un'azienda agricola per riconoscere che l'agricoltura non è solo un'attività produttiva ma anche ha una funzione sociale, culturale e pedagogica. Perché non pensare quanti milioni di anni si sono voluti per ricamare i nostri campi, le nostre colline e quante generazioni di uomini e di donne ne conoscevano il dettaglio. Ecco l'importanza di questa giornata perché tiene acceso l'amore, la responsabilità di un dono che ci precede perché il creato ci è stato donato e vale la pena che questo dono sia custodito e coltivato. Un ruolo importantissimo quello dell'agricoltura in un settore molto delicato. L'agricoltura in realtà è il comparto dove da subito i cambiamenti climatici hanno un effetto e gli agricoltori sono i veri custodi del territorio. Un nuovo modo di fare agricoltura può essere un grande contributo alla sostenibilità con ad esempio le nuove tecnologie, la digitalizzazione. Se noi pensiamo a Recovery Fund, quindi alle nuove politiche per lo sviluppo e la crescita del nostro paese le nuove tecnologie sono viste come uno strumento a disposizione del mondo agricolo per produrre non solo bene, non solo meglio ma anche in un modo ecocompatibile. Siamo qui a Bonico e Ferraresi dove l'agricoltura 4.0 è assolutamente il modello italiano. Un'occasione è quella della giornata del creato per fare un primo bilancio sul finire dell'estate dell'annata agricola 2020. È stata un'annata particolare, già a partire dalla primavera dove una forte siccità aveva creato i primi problemi ma non solo, successivamente anche il gelo e la brina nelle culture frutticole aveva creato già una grossa quantità di danni. È chiaro che oggi ci apprestiamo alla raccolta dei prodotti e cominciamo a avere le prime problematiche. una fra tanti, mi sento di citare nel frutteto, special modo sulla perabate, il problema del marciume calicino che in questi giorni sta affliggendo le nostre aziende e che vediamo in quantità che sta crescendo. È chiaro che qui lo spazio va riservato nel prossimo futuro alla ricerca. Noi abbiamo necessità di fare un punto della situazione e di capire come parare questa problematica. Sicuramente vorranno messe in campo anche tematiche che in passato avevamo caratterizzato questa cultura e che oggi abbiamo abbandonato e quindi qui mi faccio riferimento alla luminosità dei frutteti allo spazio dovuto, però tutto questo diciamo che la giusta risposta sarà la ricerca che nel prossimo futuro dovrà darci. Un'annata, dicevo, un po' problematica non solo nel frutteto ma anche dal punto di vista dei cereali. Il grano non ha dato il massimo delle produzioni perché purtroppo, come dicevo, una primavera siccitosa ha provocato i primi danni. Per quel che riguarda le culture che stiamo raccogliendo in questo momento, quindi mi rifaccio sempre ai cereali e all'ortofrutta, i cereali stiamo raccogliendo sorgo e mais, i primi quantitativi di mais. Ci sono a macchie delle bardo delle realtà che sono positive ma purtroppo con la siccità che abbiamo avuto e chi non ha potuto irrigare, diciamo, ha creato le prime problematiche. Il Covid ha inciso anche in agitazione agricoltura, però essendo l'unica attività che ha potuto dare il suo contributo non si è mai fermato un giorno, tant'è vero che anche nei temi di campagna amica abbiamo portato a domicilio la cesta oppure la necessità perché non va dimenticato che in questa situazione famiglie bisognose non sono mancate, quindi c'è differenza fra chi non riesce a avere reddito ma chi non riesce purtroppo a mangiare. Anche per le nostre aziende quest'anno è stato un anno veramente molto molto difficile e stiamo programmando la ripartenza. La ripartenza diciamo che prevede anche se in realtà comunque non ci siamo mai fermati perché le nostre aziende producono beni primari, quindi come dice la campagna l'agricoltura non si ferma, anche in questi mesi abbiamo sempre lavorato abbiamo sempre garantito un cibo sano di qualità come le nostre aziende sanno fare. I nuovi programmi sono quelli di andare a visitare le aziende del territorio, quindi porteremo i ragazzi sempre del nostro territorio a visitare altri colleghi perché il nostro territorio essendo molto vasto è caratterizzato da diverse tipologie aziendali e quindi ci teniamo a far conoscere realtà vincenti ai nostri, ai nostri giovani in modo tale da fare gruppo. Successivamente sono stati organizzati tutta una serie di incontri tecnici che erano previsti durante il periodo di lockdown ma che purtroppo siamo stati costretti a posticipare e quindi tutta una serie di nuove attività che andranno ad integrare quelle che sono già state fatte nel periodo precedente. La giornata del creato è stata una delle prime uscite del neodirettore di Coldiretti Ferrara che si presenta così. Essere arrivati a Ferrara in una provincia così importante dell'Emilia Romagna sotto l'aspetto agroalimentare sicuramente per me è un onore, quindi arrivo con tantissimo entusiasmo, devo dire che insomma io ormai è parecchio tempo che sono in Coldiretti quindi sono contentissimo di essere tornato in Emilia Romagna, provengo dalle Marche, da una federazione interprovinciale, precisamente quella di Ascoli Picciano e Fermo, sicuramente avremo con i miei collaboratori quella volontà di essere sempre a servizio dei nostri associati perché per noi i nostri associati sono la cosa più importante in questo momento qui sotto chiaramente l'aspetto nostro lavorativo professionale, quindi tutte quelle condizioni che possono risultare ben confacenti per i nostri soci sono quelli che cavalcheremo tutti i giorni insomma e tutte le mattine nel nostro quotidiano lavoro. L'ambiente che ho trovato è un ambiente bello, bellissimo, ci siamo già trovati, abbiamo tanto entusiasmo, ho visto che c'è un gruppo dirigente che sicuramente sa il fatto suo e ha voglia di lavorare e quindi penso che saranno anni spero insomma mi auguro ricchi di soddisfazioni proprio perché insomma tutto quello che facciamo lo facciamo col cuore. Cuore al centro anche di un territorio, quello del Basso Ferrarese, raccontato in un libro dal titolo La gente dei campi e il sogno di Bonomi, scritto dal giornalista, annunzio primavera ed edito da Laurana Editore, con cui si racconta la più grande redistribuzione di reddito mai realizzata in Italia, ovvero la riforma agraria di Paolo Bonomi, fondatore poi della Coldiretti, con la quale vennero riassegnate le terre paludose, poi bonificate ai contadini. Ho scritto un saggio, la terra restituita ai contadini, appunto dal titolo si comprende come proprio nel Delta Padano, per effetto della grande riforma agraria degli anni 50, a 70 anni appunto lo ricordiamo anche con emozione proprio in queste terre. La terra si è stata tolta alla paluda insana, all'abbandono totale e si è stata restituita ai contadini perché sono stati capaci solo loro di farla diventare quel grande patrimonio di prodotti di altissima qualità, ma anche un grande patrimonio dal punto di vista dell'ambiente, del creato e proprio in questa giornata qui a Iolanda di Savoia, Bonifiche Ferrarese, in cui la giornata del creato, i temi dell'ambiente, i temi della salvaguardia di questo nostro territorio che è minato da grandi pericoli e proprio in questa grande giornata ricordare la grande riforma agraria del 1950. Ha tolto 3 milioni e 600 mila ettari al latifondo improduttivo e ha creato oltre un milione di figure di imprese agricole familiari, oltre un milione di coltivatori diretti. Va ricordato perché si sposa benissimo in questa giornata del creato.